Una brillante carriera militare, poi il buon retiro a Pompei, la cittadina campana famosa per la bellezza del paesaggio e le vedute sul Golfo di Napoli, che attirava anche personaggi come Cicerone e Agrippa. È quanto emerge dall'iscrizione su una tomba trovata durante i lavori per la realizzazione di un intercapedine nei sotterranei dell'edificio di San Paolino, nuova sede della biblioteca del Parco archeologico di Pompei. Il monumento funerario cita un certo numerio agrestino, alto magistrato e militare che aveva prestato servizio nel nord della Spagna sotto Augusto, a cavallo tra il primo secolo avanti Cristo e il primo dopo Cristo. Il personaggio è conosciuto anche grazie ad un'altra iscrizione funeraria di Pompei, trovata nella necropoli di Porta Nocera, dove sua moglie Veia Barchilla aveva realizzato un monumento a forma cilindrica per se stessa e per il marito. Solo in seguito il Consiglio dei Decurioni avrebbe decretato di onorare numerio agrestino con un monumento su suolo pubblico, quello ora ritrovato. Ma la tomba è importante anche per un altro motivo. L'iscrizione cita la carica di Prefectus Autrigonum. Gli Autrigoni o Autorigoni erano un popolo delle regioni settentrionali della penisola iberica, dove Augusto tra il 29 e il 19 avanti Cristo fu impegnato nelle guerre cantabriche con l'obiettivo di completare l'occupazione della Spagna, Ispania in latino. Si tratta di una carica finora ignota, che aiuta, a livello storico, a comprendere meglio l'organizzazione del potere romano nel delicato passaggio verso il modello imperiale. Entusiasta il direttore del parco archeologico, Gabriel Zubtrigel. Grazie al ritrovamento del mausoleo e dell'iscrizione, il nome e la storia di numerio agrestino sono usciti dall'oblio dopo 2000 anni. Ma quello di oggi è solo l'ultimo dei tanti straordinari segreti ancora sepolti sotto il suolo di Pompei, uno dei siti archeologici più ricchi e importanti del mondo.